ciao agata aspetta aspetta ti metto in viva voce come va tutto bene ciao buongiorno mi raccomando andate piano che a bordo avete un piccirino ciao agata ciao bello mio dove siete e siamo quasi all'aeroporto mi raccomando se il tempo si mette brutto non lo prendete l'aereo prendete il treno che è più sicuro ma agata ma c'è un sole che spacca le pietre vabbè va meglio così ora vado in comune a sentire il discorso del nenuzzo un bacio a tutti ciao arrivederci allora siete contenti di tornare a casa sì 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 ciao 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 Grazie a tutti